buongiorno amici di fiera cavalli oggi vi porto nel cuore della maremma toscana siamo nel parco della maremma e siamo in compagnia di enrico maria scolari al quale non sono cresciute le orecchie lunghe ma enrico maria scolari a sua volta è in compagnia del suo mulo brillantino oramai un beniamino per tutti quelli che vengono a fiera cavalli ciao enrico buongiorno a tutti come giorno maria come stai tutto bene e brilla brilla stiamo bene siamo tutti bene veramente senti enrico tu sei stato ospite e cliente di fiera cavalli per tanto tempo hai partecipato al gala gli spettacoli insomma oramai tu in vista di fiera cavalli 2020 che cosa che cosa ti piacerebbe fare che cosa vorresti vorresti che ci fosse di nuovo rispetto agli altri anni o di diverso di ritrovarsi ritrovarsi fra amici di passare dei giorni fantastici dove possiamo rivivere tutto quelle che è il nostro lavoro la nostra passione e poi di divertirci perché forse penso che in questo momento abbiamo tutti quanti voglia di buttarci alle spalle questo questo brutto a questa brutta cosa che che già che ci ha preso a tutti e quindi bisogna ripartire con entusiasmo e nelle quindi io e abbrilla siamo pronti per la nuova fiera cavalli per farvi divertire e con delle nuove sorprese fantastico quindi ti diamo appuntamento e siamo sicuri che il nostro pubblico sarà pronto ad applaudirvi entrambi tu per favore devi dare un bacio sul naso abbrilla perché sai che io lo bacio sempre sul naso grazie mille ti abbraccio forte e ti aspettiamo a fiera cavalli 2020 buon lavoro Enrico e abbi cura di te però e come si dice in questi casi ci vediamo in fiera fantastico ti aspettiamo ciao ciao brilla ciao 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 ciao